Nuovo sistema digitale per il pagamento del canone idrico e sgravi fiscali per l'utilizzo della mail e l'autolettura del contatore. Queste ed altre novità introdotte dall'amministrazione a commiso e presentate dall'assessore ai tributi Manuela Pepi. E' online infatti il nuovo portale che agevole il pagamento del canone idrico ma che sarà esteso a qualunque tributo locale come la Tari spiega Manuela Pepi. Si tratta di un sito web che offrirà con un semplice clic la possibilità di pagare da casa con il cellulare o il pc. Abbiamo deliberato questo sistema in giunta continua alla Pepi per applicare una legge nazionale che impone ai comuni di attivare questo metodo di pagamento dei tributi locali. Infatti a parte la semplicità dell'utilizzo sono previsti anche sgravi delle fatture. La prima cosa importante da evidenziare è quella che i comuni potranno risparmiare sulle spese postali per l'invio delle bollette e che tali risparmi si riverseranno sugli utenti cioè sui cittadini in termini disgravi. Chiunque iscrivendosi al portale e richiedendo la fatturazione via email avrà una detrazione di 5 euro sulla prima bolletta fatturabile e di 2 euro con l'autolettura del contatore. Sarà una comunicazione diretta tra il cittadino e gli uffici postali con la massima tutela dei dati riservati di ogni utente. Inoltre è prevista anche la panoramica del proprio status contributivo dei tributi locali. Ovviamente, continua l'assessore, la lettura dei contatori si farà ugualmente nell'emore che le percentuali di utenti digitali siano abbastanza elevate ma la novità più importante è che si pagherà solo in base al consumo effettivo se si procederà con la comunicazione digitale con l'autolettura. Infine, conclude l'assessore Pepi, abbiamo pensato anche i cittadini meno avvezzi all'uso digitale facendosi che tramite CAF patronati e commercialisti basta una semplice delega per poter effettuare i pagamenti online e richiedere le bollette tramite mail.